Chi è Andrea De Paoli? Il nuovo volto dell'edizione 2023 di avanti un altro nelle vesti del «Bonus». Andrea De Paoli è nato nel 1975 a Padova ed è alto 186 centimetri circa. Non si conosce il suo segno zodiacale. È possibile. Però seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale e chiocciola Andrea De Paoli che conta quasi 300.000 followers. Andrea De Paoli dopo il suo percorso scolastico ha intrapreso la carriera di idraulico. Mestiere che ha fatto per circa sei anni. Successivamente, grazie ai social, ha avuto l'occasione di essere notato da un'agenzia di moda e di debuttare in questo settore. Andrea De Paoli. Dalla carriera da modello a bonus di avanti un altro. Andrea De Paoli è un modello. Rappresentato dall'agenzia Match Picture. Che si occupa di rappresentare anche altri volti dello spettacolo come le Donatella e Luca Onestini. Durante la sua carriera, ha partecipato a diversi shooting fotografici per molti marchi. In particolare di abbigliamento maschile. Ad esempio, compare sulla scatola dei pigiami Enrico Coveri. Andrea, però, è molto apprezzato e richiesto anche per pubblicizzare gli accessori. Ha preso parte ad una pubblicità di Salvini Gioielli. È apparso nella home page del sito ufficiale di Philip Watch ed è stato il protagonista della campagna pubblicitaria degli occhiali Polar. Divenendo il volto di alcuni cartelloni a Parigi. Tra i suoi lavori, in più, è possibile citare anche alcuni spot televisivi come quello della nota Birra Peroni. Nonostante la sua carriera promettente nel mondo della moda, Andrea non è un volto noto della tv. Almeno fino ad ora. Infatti, il modello è uno dei nuovi protagonisti dell'edizione 2023 di Avanti Un Altro. Game Show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Andrea, infatti, è il nuovo bonus, in sostituzione del modello eserfista svedese Daniel Nilsson, e permetterà ai concorrenti di poter raddoppiare il P.D. Gozzo, pescato dopo aver risposto correttamente alle domande poste dal conduttore. Andrea De Paoli è fidanzato. Andrea De Paoli è un ragazzo molto riservato. Sul suo profilo Instagram, infatti, è solito condividere scatti e video concernenti la sua carriera. Ma non molte notizie sulla sua vita privata. Anche se in una recente intervista al magazine chi ha dichiarato di essere single. Nel 2018 ha postato una foto con una ragazza di nome Francesca. La sua compagna in quel periodo. Ma non si sa nulla sulla loro relazione.